appuntato brigadier aiutatemi aiutatemi che cosa è successo mia moglie ieri sera non è tornata a casa non è mai successo aiutatemi calmatevi calmatevi vedrete che la troveremo state tranquillo però calmatevi calmatevi e datemi qualche dato com'è vostra moglie descrivetemela un poco è molto grassa è tarchiata è bassa tiene pochi capelli in testa e non tiene i bocca a e con questa descrizione la troveremo sicuramente non si vede tra me non è stato tranquillo posso andare andate tranquillo grazie appuntato brigadiere allora avete notizie di mia moglie ottime notizie si dite non l'abbiamo ancora trovata siete contento si assagio